Musica Visita del ministro delle infrastrutture Lupi al cantiere TAV di Chiomonte che conferma gli imprenditori danneggiati saranno risarciti. Fatto il punto sull'avanzamento dei lavori. Parliamo di TAV, gli imprenditori danneggiati saranno risarciti. Lo ha detto oggi il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi che ha visitato il cantiere della discenderia di Chiomonte. Con lui il sindaco di Torino Fassino, c'era anche Claudio Apostolo. Gli imprenditori danneggiati dai sabotaggi degli attivisti no TAV saranno risarciti. Lo ha promesso il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, oggi in visita al cantiere della discenderia TAV di Chiomonte. Lupi ha annunciato per l'inizio d'agosto un vertice in Valle di Susa per definire risarcimenti e compensazioni. Sono stati approvati dei progetti, devono essere i primi 10 milioni, devono essere anche stanziati gli altri 25 milioni. I sindaci dovranno venire giù a rappresentare appunto lo stato dell'arte, paragonandosi ovviamente con i funzionari. Metteremo attorno al tavolo anche il ministero dell'economia e delle finanze, in modo che si possa dare certezza sulla compensazione per le imprese. Domattina il senatore del PD Stefano Esposito e il parlamentare del Movimento 5 Stelle Marco Scibona saranno al cantiere in visita istituzionale su mandato della Commissione Trasporti del Senato in seguito ad un esposto del SIULP, il sindacato di polizia, che ha denunciato la presunta nocività delle polveri del cantiere.